Dobbiamo sempre riflettere sulla critica che Platone fa, che in particolar modo poi è anche specificatamente contro Pericle, non solo nella Repubblica, però per esempio si potrebbe ipotizzare anche in altri dialoghi come nel Gorgia, per esempio nel rapporto tra Socrate e Callicle, dove Callicle appunto esprime quel diritto del più forte, esemplificato peraltro anche da Tuciride rispetto alle parole che Tuciride scrive di Pericle, probabilmente riguardo alla guerra del Peloponneso. Perché Popper quindi è interessante? Beh interessante probabilmente per il motivo che ci fa intendere un rapporto inteso come anche dicotomia ma similitudine tra ciò che Platone vuole intendere all'interno della Repubblica e ciò che Pericle voleva intendere all'interno della storia. Infatti lo stesso Pericle si trova appunto per uscire dalla crisi appunto interna ad accettare la guerra del Peloponneso, questa è una possibile tesi, tesi tra l'altro espresse indirettamente dalle commedie appunto anche di Aristofane, tale per cui appunto i politici, i dominatori dell'epoca per riuscire a superare le diverse controversie interni, i battiti interni appunto accettarono la guerra contro Sparta, quindi la dichiarazione di guerra di Sparta. Il dominus, il personaggio più importante, il primo cittadino di Atene era Pericle. E cos'è che fece Pericle? Beh Pericle cominciò a fare una riflessione e pensò, se in questo senso io anche sulla base delle mie riforme ho diverse critiche da parte degli aristocratici, comunque se c'è qualcuno che mi critica, che mi odia all'interno della città, c'è qualcuno invece che mi supporta, ecco, per uscire da questo tipo di critiche, peraltro anche considerando lo sviluppo delle commedie, delle tragedie, insieme dei dibattiti tramite cui queste commedie e queste tragedie erano nate, ecco, lo stesso Pericle poi a un certo punto pensò di entrare in guerra probabilmente, sulla base del fatto che in questo modo avrebbe fatto dimenticare le critiche nei suoi confronti, perché? Perché probabilmente se alcuni criticano Pericle e altri no, e c'è quindi un dibattito realmente interno, come far sì che i diversi poli si dimentichino delle critiche nei miei confronti, pensò Pericle, entrando in guerra contro Sparta. Il piano di Pericle in questo senso è riletto da Popper, questo lo dico io, è interessante perché? Perché Pericle pensò sulla base del suo periodo presente, ovvero sia, perché pensò, non mi sarà difficile mantenere il potere nel momento in cui noi abbiamo le mura, perché? Perché appunto se entriamo in guerra con gli spartani noi abbiamo l'egemonia dell'Egeo, abbiamo la forza commerciale per resistere alla guerra, abbiamo grandi alleati che commerciano con noi, gli spartani hanno il problema degli spartiati che non possono uscire da Sparta per possibili rivolte degli iloti, gli spartiati sono pochi all'interno di Sparta il rapporto agli iloti, e in fin dei conti fanno fatica a navigare. Quindi Pericle fece un piano molto importante per riuscire poi a mantenere anche il potere secondo questa linea di tesi, che è una linea assolutamente supportabile perché da un lato Pericle pianificò per vincere la guerra, che appunto vedendo lui ancora in vita era possibile questo, considerando che sarebbe stato lui appunto a guidare gli Atenesi. D'altro lato naturalmente Pericle fece questo appunto, ripeto, per uscire dalle controversie interne che lo vedevano protagonista. Quindi è come dire prendere due piccioni con una fava. Il punto è che, prendendo Popper, la sua critica allo storicismo, ecco è come se Pericle avesse in certo qual modo pensato in parte come senso utopico della cosa, perché? Perché si era dimenticato che noi facciamo sempre previsioni rispetto a ciò che sappiamo ora, ma non già rispetto a ciò che potrebbe accadere in futuro, per il semplice motivo che non lo sappiamo. In un certo senso è come se già questo tipo di situazione anticipi molto le critiche che Popper farà anche a Marx, cioè al senso storico, in senso storicista, dove tu crei classi sociali. Perché la stessa situazione della Guardia di Peloponneso ci dice una cosa. E Pericle naturalmente sviluppò un tipo di atteggiamento storicistico, che poi in realtà non si compì per il semplice motivo che per esempio si scatenò una pestilenza. Una pestilenza che portò anche lui stesso alla morte. E cos'è che accadde? Ecco le parole di Tucidide. Tucidide disse, Pericle consigliò gli Atenesi di stare all'interno delle mura della città, però poi arrivò la pestilenza. Che peraltro uccise anche lui. E nel momento in cui lui accettò la dichiarazione di guerra da parte degli spartani, al di là naturalmente della responsabilità degli spartani, che comunque probabilmente la guerra l'avrebbero fatta, il fatto è che poi, come dice anche Aristofane, questo portò i contadini a dover entrare all'interno della città. Per appunto il fatto che gli spartani stavano arrivando. Entrarne all'interno della città perché c'erano le mura. Questo portò naturalmente anche a un espandersi della pestilenza, perché erano tutti più concentrate all'interno delle mura della città. Quindi non solo in questo senso limitò il commercio e in fin dei conti la produzione, il fatto che i contadini erano entrati dentro le mura della città, ma anche, in certo qual modo, sviluppò di più la pandemia. Perché erano tutti più ammassati dentro. E Pericle non poteva prevedere nulla di questo. Quindi il fatto che lui abbia dato certi tipi di ordini e abbia disposto determinati tipi di comportamenti, o meglio sia, ciò che Atene avrebbe dovuto fare, era slegato dal fatto di quello che lui poteva sapere. Perché non poteva sapere in fin dei conti che si sarebbe scatenata questa pestilenza. Probabilmente sviluppatasi anche per motivi commerciali, rispetto anche ad altre popolazioni con cui i greci commerciavano. Però tant'è che questo avvenne. Cos'è che accadde come risposta rispetto a questa situazione? Accade quindi che dall'altro Atene si vide senza il suo dominus e cominciò ad applicare delle politiche che lo stesso Tuccidede successivamente critica. Ovvero sia politiche che non sono in linea con i ragionamenti e le riflessioni di Pericle e con le disposizioni di Pericle. E infatti Tuccidede è critico rispetto alla politica atenese in generale, alle azioni atenesi post morte di Pericle. Questo poi porterà attenzione, tutto questo, alla Repubblica di Platone. Ossia un sistema di stampo ideale, di stampo un po' per dirà storicista. Platone struttura una Repubblica per eliminare la potenziale corruzione della città portata da un lato secondo Platone e dallo stesso Pericle attraverso le entrate in guerra all'interno della guerra del Peloponneso tramite cui per Platone e Pericle aveva corrotto i costumi cittadini facendo dimenticare ai cittadini appunto stessi, vedete, l'importanza della politica perché Pericle voleva uscire dal dibattito interno e appunto voleva che le persone si dimenticassero della sua figura entrando in guerra. Per questo anche Platone lo critica indirettamente da un lato. Poi dall'altro naturalmente Platone critica tutto quell'assetto che portò alla morte di Socrate come anche degenerazione dei costumi democratici se vogliamo. Quindi in questo senso Platone sviluppa una Repubblica come critica alla democrazia, intesa come critica alla democrazia atenese per sviluppare quindi sulla base della linea genetica il rapporto all'anima, quindi anima d'oro, d'argento e di bronzo filosofi, guerrieri, produttori, ciò che ognuno di noi, ognuno appunto degli individui dovrebbe fare come inclinazione come ciò a cui l'anima tende. Però attenzione, anche qui ritorna Popper. Perché? Perché anche qui all'interno di questa logica c'è uno storicismo da parte di Platone, cioè l'idea di credere che tutto funzionerà sulla base di ciò a cui l'anima tende. Ora, se noi facciamo un attimo una comparazione, ci rendiamo conto che da un punto di vista storico Popper, cos'è che dice rileggendo questa situazione? Che Pericle ha utilizzato un certo tipo di storicismo cercando di programmare una cosa che sarebbe andata probabilmente secondo i suoi piani se non fosse che poi la storia ha parlato diversamente. Come direbbe Machiavelli, la fortuna ha parlato diversamente perché diverse cause hanno portato a qualcosa di cui Pericle non si aspettava, una pestilenza. E la stessa azione di Pericle di entrare in guerra ha portato poi all'aggravarsi della pestilenza perché i contadini sono entrati in città, tutti concentrati. Quindi colpa di Pericle da questo punto di vista. Perché? Perché Pericle ha fatto qualcosa che ha aggravato la situazione e lui non se lo aspettava. Secondo punto però, Platone poi entra in gioco da un punto di vista filosofico e comincia a creare un sistema atto a far sì che tutto sia perfetto da un punto di vista strutturalmente utopico. Se vogliamo, utilizzo il termine utopia anche se Platone naturalmente non è stato il primo avuto Masomoro a utilizzare il termine utopia. Però è un sistema utopico quello di Platone. La critica di Platone è probabilmente di stampo storicista ma che si fonda sullo storicismo. Cioè l'idea che Platone dice attenzione, la città ha sbagliato perché ha fatto dei programmi, ha avuto delle previsioni sbagliate. Ha sbagliato tutto. Si è affidato a qualcuno di sbagliato. Lo stesso Crizia, mio parente, è divenuto il tiranno che cappeggiò su tutti gli altri per la situazione degenerata della città. Abbiamo sbagliato tutto, però Platone in fin dei conti struttura una repubblica basata appunto nel suo sistema sul senso anche mitico inteso come inclinazione dell'anima. Non sarà un caso la critica poi di Aristotele, cioè la base che bisogna però vedere la pragmatica delle cose. Certo, naturalmente Platone ci ha conferito il significato della linea genetica importantissimo, cioè il tema dell'inclinazione, il tema appunto dell'attitudine. Naturalmente questo è fondamentale. Però il senso storicista del io ho la sfera di cristallo e so già che tutto andrà secondo cui io dico che andrà sulla base appunto magari anche solamente della linea genetica e non guardando anche le circostanze della vita e non considerando anche i fatti o appunto i fallimenti che possono accadere come è successo a Pericle, come è successo ad Atene può essere controproducente. Infatti quello che abbiamo visto storicamente, poi non solo nella situazione della guerra del Peloponneso, ma in molte altre situazioni in cui poi gli avvenimenti, le circostanze hanno parlato diversamente o si sono schierate contro i possibili programmi che gli uomini si sono posti, hanno poi portato ad accadimenti di stampo diverso appunto rispetto alle previsioni. Questo è interessante perché alla fine la filosofia occidentale, ma il pensiero occidentale, si fonda su questo presupposto, che in fin dei conti non è neanche il presupposto in questo video che io sto proponendo della critica che Popper farà direttamente a Platone, ovvero sia una critica di stampo secondo Popper totalitaria, ma in questo senso a mio parere c'è probabilmente questo da dire, che la filosofia occidentale, il pensiero occidentale si fonda sull'esigenza di una critica allo storicismo, che però, attenzione, parte dal presupposto storico di una previsione certa, che poi non si è compiuta perché i dialoghi socratici sono sempre una conseguenza di quella provisione certa di Pericle in fin dei conti che non è, non si è compiuta. Se Pericle fosse rimasto in vita, se non fosse morto dalla pestilenza, se non fosse mai avvenuta questa pestilenza, questa pandemia, se Atene avesse vinto la guerra del Peloponneso, molto probabilmente Platone non avrebbe mai scritto quello che ha scritto e quindi l'influenza della filosofia occidentale da parte di Platone sarebbe stata totalmente diversa. Tant'è vero in realtà che tutto ciò è molto diverso perché noi abbiamo dei dialoghi socratici che parlano chiaro in modo diverso con critiche anche indirettamente a Pericle, ma in realtà ai costumi etenesi e con il supporto appunto verso il suo maestro Socrate che fu poi condannato a morte per i motivi che sappiamo, ovvero sia per il fatto che dopo la guerra di Tren... dopo il dominio della tirannia dei Trenta Tiranni e l'abbattimento di questa tirannia da parte di Atene, la situazione in Atene era una democrazia rinnovatasi, ricostruitasi, ma con tante falle al suo interno comunque sia con tante paure, preoccupazioni e Platone vide queste paure e queste preoccupazioni sulla base del fatto che lui visse quel periodo precedente, antecedente a questa situazione, ma poi anche successivo e che vide quindi le falle della città, cercando appunto di riuscire a risolverle tutte all'interno di un'opera in fin dei conti ideale, una città, una polis, una repubblica ideale, quella appunto che lui descrive nella sua opera più importante La Repubblica. Ciao!